la peste di albert camus è stato forse il libro più letto durante la pandemia del 2020 è un libro che ha saputo parlare del nostro tempo come solo i grandi classici riescono a fare non perché prevedano il futuro ma perché conoscono profondamente le costanti del cuore umano camus è un teorico della rivoluzionarietà dell'arte ed è un teorico dell'amore e forse l'amore è l'eresia cruciale della vita di albert camus in esclusiva su tv loft abbonati su tv loft punto it e scarica l'app